Ed eccoci qui con il diciottesimo episodio. Ma sei serio, fratello? Sei un assassino, ecco cosa sei. Non sono stato io. Michael, ti prego, ascoltami dai, io non ho fatto del male a Jessica. Zitto. Sai una cosa? Stai zitto. Chris, ok. Andiamo, capo. Siamo amici. Zitto, sta zitto. Oh, bene. Fai pure lo stronzo. Vedete solo quello che volete vedere. Siete... Chiudi la bocca! C'è chi? Siete... Cazzo. Non è colpa mia se non sapete stare agli scherzi. Oh, ti ho... ti ho fatto male? Per caso ti sei fatto la bua? Guarda, mi dispiace. Mi dispiace così tanto! Basta! Dai, piantala! Michael, mi dispiace, amico. Non puoi nemmeno immaginare quanto mi dispiace che sia successo qualcosa a Jessica, ma giuro! Giuro che non ho la minima idea di cosa le sia successo! Aggressivo. Adesso basta. Capo di quella cazzo di bocca, Josh. Le parole non servono. Ok, possiamo tornare amici. Cazzo! Basta con le strozzate! Non va. No. Non è così. Non è così che dovrebbe finire. Siete solo un branco di bulletti! Non potete lasciarmi qui in questo modo, ragazzi! Anche... Anche perché comunque... Non avrete mai le palle di fare niente! Ti prego! Davvero? Tu devi smetterla di dire cazzate! Oh! Oh! Va bene. Io... Cioè... Io... Io voglio... Io voglio dire... Non... Non capisco cosa tu intenda, visto che... Non ho nulla di cui pentirmi. Oh, mio Dio. Oh! Ok, adesso mi legate, ok? Stai fermo, amico. Giusto, giusto, giusto. Ok. Non puoi legarmi se mi agito troppo. Josh, amico! Lasciami un po' di spazio per dimenarmi. Che devo fare per zittirti? Non così stretto, ok? Non così stretto. Non riesco a muovermi. Non ti dimentica questo, sì. Di che cosa cazzo sta parlando? Cazzo, come ha messo? Ha mai detto cazzate del genere? No, 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 no. Non l'ho mai visto. Sono di fatti o rimborsati! Stupidi. Sono scemi e più scemi. Chris esce. Chris è stronzo. Esce tonta, tonta. Cosa? Cosa, scusa? Che cazzo dici? Ho detto che sei stupido, stupido. Ma che cos'hai che non fai? Oh, Ashley. Oh. Esce, ti giuro che ti salverò. Ti lascerò morire. Oh, non ho mai usato neppure nei miei sogni sperare di piacerti. Smettila. Sai che rumore è questo? È il rumore che fai tu quando non baci Ashley cacassotto! Basta! Sì, infatti. Tanto vale che Ashley vada a letto con Mike. Cioè, almeno lui ha dimostrato di saper combinare qualcosa, giusto? Lui la farebbe divertire! Sei davvero patetico! Mi spacco la testa! Non dargli ascolto! È inutile. Ehi, Mike. Mike, 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 Mike. Mike? Cosa? Cosa è successo con Jess, Mike? Lo sai bene. No, no, io non... Io ho un problema, Mike. Io non ricordo di aver ucciso Jess. Gesù Cristo! Voglio dire, credo che... che mi ricorderei di averlo fatto, no? Era così morbida e molto probabilmente aveva un corpo da urlo. Tappa quella cazzo di bocca! Colpiamo il Josh, vaffanbara. Figlio di puttono! Basta! Basta, amico! Calmati! Che cazzo fai? Stavo... Tu, tu stavi per sparargli! Lo prendevo un po' per il culo. Volevo spaventarlo. Fargli capire che si prova. Ma che cazzo? Non potevo ammazzarlo! Calmo! Sta bene. Starà bene. Non mi è piaciuto per un cazzo. Beh, almeno ora. Sta zitto. Ah, sì, sì. Torna alla baita. Cosa? Perché? Lo terrò d'occhio fino a domattina. Non c'è bisogno che continui a pestarlo a sangue. Sei ingiusto? Io l'ho fatto per aiutarti. Sì, beh, ottimo lavoro. Fatti un giro. Ma cosa cazzo dici? Torna alla baita. Ora. Sì, ora. Sì, ora. Sì, ora. Sì, ora. Sì, ora. Chi è proprio lì? Che sfigata. Oh, merda. Oh, merda. Oh, cazzo. Bene. Sì. Oddio. Va bene. Va bene, andiamo. Ok, io direi che anche per questo video è tutto. Ciao a tutti e un prossimo video.